Oggi prepariamo insieme il polpettone di zucchine con un cuore di formaggio filante Ottimo da gustare e tiepido per un pranzo leggero ma sfizioso Ottimo da gustare e tiepido per un pranzo leggero ma sfizioso Ottimo da gustare e tiepido per un pranzo leggero ma sfizioso Ottimo da gustare e tiepido per un pranzo leggero ma sfizioso Grazie a tutti. La nostra farcitura prevede formaggio asiago e prosciutto cotto, ma in alternativa è possibile usare fontina o speck. Conserviamo il polpettone di zucchine in frigorifero per un massimo di 3 giorni o eventualmente congeliamolo intero o a fette. Se questa ricetta vi è piaciuta scoprite tutte le altre proposte sul sito e sui nostri canali social.